Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Ora ascolto. Buongiorno e buonasera. Dovunque voi siate, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Ho già fatto una rima. Una rima che può essere pane per i suoi denti per Paolo Gentiluomo. Paolo Gentiluomo, hai visto la nostra sigla? Sì, la vista. Mi piace la sigla. Mi piace. Senti, ma i treni ti hanno mai ispirato qualcosa a livello poetico? Se parlassi con Alberto Nocerino, nostro comune amico, si aprirebbero proprio le cateratte del Nilo. Ma no, in particolare no. I treni no. Ma diciamo che c'è qualche treno da qualche parte sicuramente. Però mi interessano più i treni di parole, come dire. I trenini di parole. I trenini di parole. Le parole che vanno tutte dietro al vagoncino, cioè alla locomotiva. Mi piace di più quello, cioè piuttosto che, ripeto, qualche situazione in cui ci sarà un treno, ma non me la ricordo neanche, a dire la verità, di citazioni di treni, di stazioni. No, 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 no. Ponto sì. No, non solo quello. Come ispirazione? Sì, sì. Come ispirazione? Mentre ci vado sopra, perché no? Sì, quello sì. Mentre sono stato tanto tempo variamente pendolare. Per cui nella pendolarità c'è uno guarda il paesaggio, legge, dorme. Queste sono le tre cose principali. E a volte sì. Quindi gli viene anche uno sghiribizzo poetico, diciamo. Però per come lavoro io, che ci metto sempre mano, ci rimetto mano e via dicendo, insomma, vuol dire. Poi alla fine l'ispirazione, diciamo così, del treno è relativa. Quindi per te, più che l'ispirazione, possiamo dire che esiste il laborlime? Sì, non è che le due cose di per sé siano, comunque, si escludano a vicenda. Perché tutto sommato uno può anche avere un'ispirazione, crea una cosa. Poi comunque ci mette due cosette a posto, ce le mette lo stesso. Non è che non tocca più nulla. Io, per come lavoro io, invece, butto dentro all'impasto del pentolone e rigiro, e rigiro, e rigiro, e rigiro. Cambio, tolgo, insomma, faccio parecchio laborlime. Ma più che laborlime è proprio laborraspa, altro che, non so. Si traffica, comunque, insomma, con le parole e via. Questa è l'idea prima. Senti, che vino abbineresti alle tue poesie? Eh, bravo. Hai preso uno che è quasi astemio, quindi non è facile. No, ma nell'epoca più alcolica prendevo i moscatelli. Ma il moscato ci sta con le tue poesie, sai. E allora andiamo di moscato, come se piovesse, e via. Moscato. No, poi, non lo so. No, che ne so, potrei... E che non li conosco bene, appunto. Per cui... Poi non riesco ad abbinarlo bene, non sono un intenditore, ecco. E quindi, comunque, diamo moscato, vai, che è quello che è... Forse quello che più ho bevuto, quindi... Eh. Eh, quello è. O se no, acqua brillante. Acqua brillante, ma rientra nella categoria moscato, nel senso che è bollicina. Vabbè, è bollicina. Bollicina. Senti, poesia per te è più un'auto che corre in mezzo alla pianura disperatamente nella notte o una cabala magica? Una capra? Cabala. 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 C'è capra. Ah, anche una capra. Una capra. Allora, più una capra che corre disperatamente. No, sono più per la cabala magica, direi. Se devo dire... Perché nell'altro non mi ci ritrovo in questo ideale di... Nella notte... Io sono luccano, mi piace agire alla luce del sole. Poi anche i mezzi... Non è che... Sì, ho un grande conoscitore neanche di motori e di macchine e di cose del genere. Quindi abbandoniamo la macchina. Guidi, guidi, guidi ma per sbaglio. Ma guido, guido bene anche, tra l'altro, che si sappia. Però sì, diciamo che della macchina non me ne frega molto, ecco. Per cui diamo cabala magica. Cabala magica. Se devo scegliere tra i due. Senti, dovessi scrivere una poesia non d'amore, sull'amore. Al centro della tua analisi? Al centro del tuo verbo sparso al vento? Cosa metteresti? Hai detto, scusa, la distinzione era poesia non d'amore ma sull'amore? Sull'amore, sull'amore. Sull'amore, quindi in generale. Sull'amore in generale. Non puntualizzato a una persona. Sull'amore cosa? Mi perdo. Perché tu vai con la macchina, hai capito? E io ti devo inseguire dietro. La parola che sarebbe al centro? Sì, le parole che sarebbe. Il concetto. Il concetto. Il concetto è quello di... Vedi la cosa anche dall'altra parte. Vedi l'oggetto, la cosa, anche con un'altra prospettiva. Anche dalla parte dell'altro. E quali sono, se cosa si può dire, gli argomenti su cui si fa così? Io alla fine ne trovo due. Ah beh, o due o tantissimi. Quali sono le due? Due o uno è l'amore. Uno è l'amore e l'altro è l'amore. E l'altro è la morte, sì. Beh, è d'altro canto. Sì, ma volendo, lì ci si fa rientrare tutta una serie di altre... Di sotto-argumentazioni. Di sotto-argumenti. Quindi volendo si può anche sottoscrivere. Poi su un quasi amore, morte, c'è anche... Anche sponoramente... Amore, c'è il... Esatto. Tag, ma moro. Senti, tu con il tuo gruppo di poeti... Sì. Quello che fu il tuo gruppo di poeti... Ormai siamo inattivi come gruppo da un po' di tempo, effettivamente. Sì, sì. Non siamo più sulla cresta dell'onda, sulla breccia. Io mi ricordo di voi nel 90... E vedi, appunto, qualche annetto fa, sì. 32 anni fa. Anche dopo abbiamo fatto qualche... Anche dopo, sì. Mi ricordo di voi anche dopo. Diciamo che adesso sarà... Però che non facciamo una cosa di gruppo... Sarà più di 10 anni, sicuramente. Sì. Comunque... Cosa facevamo? Sì, no, no. Facevate delle cose corali particolari. E questo è sempre stata una cifra stilistica di cui vi ho dato atto, perché oltre a essere poeti eravate anche performer. E comunque avete prestato spesso orecchio e occhio alla sfera politica. È ancora il tempo di farlo? Beh, non vedo perché no. Non c'è un motivo per cui non si dovrebbe prestare orecchio alla sfera poetica, come dici tu. Cioè, quella è una pratica, quella della scrittura e della poesia, della scrittura in generale, perché poi tendenzialmente a me piace scrivere in tutte le maniere, cioè non solo versi. E mi piace anche molto usare quello che faccio in collaborazione con altre persone. Era così con gli altri poeti nel gruppo, soprattutto, perché per molti anni abbiamo organizzato e fatto cose insieme, anche come esibizione, creando delle partiture dove i nostri testi si mescolavano, dove facevamo apposta i testi per fare poi la lettura. O trovando delle maniere per portare i nostri testi in una determinata maniera, in un determinato modo, insomma, più, chiamiamolo, spettacolare per intenderci. E mi piaceva anche collaborare con le cose che facevo, con artisti di altro tipo. Cioè, mi è capitato di farlo in prima persona, suonando in un gruppo di musica industriale, rumoristica. Poi, collaborando con vari artisti, soprattutto con Emanuele Magri, ho fatto diverse cose, allestimenti che prevedevano performance, ma ho anche video, foto. E con una danzatrice, Alinari, ho partecipato a due suoi spettacoli. Quindi, appunto, mi piace, come dire, con le cose che faccio, mettermi anche in gioco, in collaborazione con altri artisti che lavorano su altri aspetti anche. Quindi, comunque, l'orecchio appunto alla poesia, l'orecchio comunque alla scrittura, è sempre valido come motivo di interpretazione di quello che è il tuo contorno, che è il tuo reale, che è il tuo modo di stare al mondo. Senti, esiste invece una dimensione politica della poesia? E secondo me è inevitabile, nel momento in cui tu fai poesia e non te la tieni nel cassetto, perché se uno se la tiene nel cassetto non c'è dimensione politica, qualsiasi cosa si scriva, nel momento in cui tu invece la metti in circolo, come dire, e quindi la metti in un circuito che prevede che altri la leggano, qualsiasi cosa sia, è un atto politico comunque, in ogni caso, anche. Non che questo gli garantisca l'utilità, ecco, tipo, ok, però comunque in ogni caso è un atto politico, anche in un totale disimpegno, come dire. Quindi non è necessariamente che l'argomento fa la cosa politica. Certo, ci può essere anche una poesia, diciamo, più sostanziosamente politica, proprio anche negli argomenti. Ma nel momento in cui tu fai della letteratura, cioè comunque della poesia, e la metti in circolo, è quello comunque un atto politico, che è un atto sociale e quindi inevitabilmente politico. Se te la tieni nella cameretta e la leggi solo tu, è a tre tuoi amici, allora forse no, non è politica, perché appunto non esce a confrontarsi. Mentre nel momento in cui si confronta con anche chi eventualmente può polemicamente dire che è una schifezza, e lì comunque agisce, e questa è un'azione appunto, che è un'azione inevitabilmente politica, ecco. Sì. La polis. La polis, sì, certo. E secondo te esiste un'identità fra vita e poesia? Ma cosa intendi con identità? Perché questa è una capire. Allora, per alcuni potrebbe essere un sinonimo. Cioè vita e poesia? Sì, sì. Ma non saprei. Così di primo acchito risponderei no. O perlomeno per me no, ecco. Nel senso che non c'è una sovrapposizione assoluta. La poesia è una delle mie attività che io svolgo come umano. Dopodiché poi ne svolgo anche altre. E quindi non c'è una sovrapposizione totale. Per cui ogni mia azione è un'azione di poesia. Come dire? Perché se c'è la sovrapposizione, più o meno quello dovrebbe essere. Anche fosse arte no, perché se vai a pagare una bolletta, soprattutto della luce adesso. La pago molto poeticamente, ma non sto facendo... Non è, diciamo, una sovrapposizione appunto di vita e poesia. Ecco, via. Ma le imprecazioni... Fare anche delle altre azioni anche più piacevoli, però non... Sì. Tornando alla bolletta, le imprecazioni non so quanto siano poetiche, a meno che te le costruisca poetiche tu. Non lo so, io meno impreco, meglio è, perché così almeno mi dimentico prima dell'effetto della bolletta. Senti, ci leggeresti qualcosa di tu? Sì. Dunque, vediamo un attimo però. Scelgo al volo, eh. Un secondo. Lunga, corta, media. Media. Sempre in medio stat virtus. Ah, vabbè, ok. Non sono d'accordo, ma vabbè. Non sempre perlomeno, in medio stat virtus. Ma leggiamo questa qua, allora. Scusami che... Oh, mamma mia. Ecco qua, allora. Vado? Certo. Allora. Questa è una serie di poesie che si intitolano monologhi dell'obnubilatore. Il concorso di pubblico, una donata che potrebbe risolversi in qualsiasi momento con esodo in stato di panico. Non ha che da starsene o reagire, rimettere o rivoltarsi. Ognuno mettere in palio la propria esigenza, assistere o partecipare, smoccolare o applaudire, emozionarsi o comprendere, socializzare o essere limpidamente egoisti, ridere o piangere, cadere una o tre volte. Il pubblico, che siete soprattutto voi, a come siete sopraffini voi, come siete agghindati voi, come siete pasciuti voi, ma come ve la passate bene voi, ma come vi è saltato in mente di venire qui stasera voi, ma come siete affascinanti voi, come siete educati voi, come siete seduttivi voi, come siete seduti voi, come siete voi voi. Io invece sono il dietologo che vi ingrassa, l'evasore che vi tassa, l'enologo che va stemia, l'emologo che vi dissangua, l'emulo che vi dissimila, l'omologo che vi opposta, l'omogeneo che vi incontro, l'anatica che vi supposta, sono l'anatomo patologo che vi fa il gesto dell'ombrello, dal suo spaccio aggrondante, tavolaccio di umana scucitura, sono una macchina in panna, un peluche trucito, un mammut senza zanne, un clone avvizzito, sono un bolo, un globo, sono il puro unologo, il logo slogato, il blog del globo che trotta, il ribolir di mostro nella cranica calotta, no! Piuttosto un omogenizzato malaggregato, un indigeno borghese, un eterogeneo inglobalizzato, un etnografo incivile, uno scenografo di scene caducche blese e scarso stile, un falso autografo di autori vari, un autottono forestiero, un eterodosso di rigida dottrina, uno stracco indefesso, quasi un paradosso di Russell, una costante di Cavendish, un follicolo di Grafo, una tumba di Fallopio, una tromba di Eustachio? Io sono l'obnubilatore e vengo qui a capovolgere la direzione, confondervi, mettervi dubbio e elevarvi certezze, insidiarvi cari, caricarvi di responsabilità, farvi precari, farvi forse sicari o farvi fuori, sul serio, a rendervi tutti più proiettili e meno retrattili. Ah, ecco qua. Questa era una poesia appunto monologhi dell'obnubilatore che faceva parte anche di un varietà patafisico che avevo messo su un po' di anni fa e questa, di fatti c'è un riferimento a un pubblico anche presente in realtà, però anche in questo caso può esserci un pubblico che sta di là e che è quel voi a cui si riferiva con la sequenza. A me è piaciuto quel pasciuti, che è un termine un po' desueto ormai. Ma comunque in ogni caso lo sai che nel mio tipo di versi entrano dentro neologismi, termini desueti e ricavati da dove più si può prendere, ma anche quindi assolutamente anche termini di... diciamo aggiornati, ecco. Adesso sto facendo ma ci sto lavorando una serie di... di poesie dove c'è tutta una serie di terminologia inglese che viene adottata per la ricerca di lavoro che mi incuriosisce, mi piace, che voglio usare. Mi piace, non che mi piaccia quello, però che mi... il fatto che uno debba essere sempre problem solving e via dicendo, insomma, ce n'è una caterva, le sto mettendo insieme per produrre qualcosa, insomma. sempre quello che si diceva prima, cioè un lavoro che raccogli, metti dentro, frulla, ricomponi, vedi cosa ne esce, magari butta via, riprendi. Facile buttare via. Butti via tanto? Eh no, si butta via, io l'assessi butta via. Si butta via tantissimo. Eh, quando non funziona bene una cosa, per niente, butti via, sì, butti via. Soprattutto all'inizio di un progetto, perché non hai magari ancora la pista giusta, come dire, no? Per cui inizi a lavorare, ma... E quindi poi ci sono delle cose che magari se ti piacciono, piacciono, invece che buttarla via, la cantoni, magari poi ti viene bene per un'altra cosa. Per un'altra, sì, sì. Io non buttar via mai niente, si sa mai. Ma tutto quello che ufficialmente butto via, lo metto in un file... Ah, c'è un finto cestino, insomma. Un finto cestino, sì. C'è un file che si chiama cestino. Eh sì. Che non è il cestino. Che però non è esatto, quindi non viene mai svuotato. No, 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 no. Eh, però... E tante volte ho ripescato delle cose. Eh sì, ma anche a me è capitato comunque di trovare delle cose che in realtà mi servivano. A volte questo lavoro mi è fin d'ostacolo perché mi metto lì a guardare le cose che ho accantonato e poi mi perdo un po' nel guardare le cose che ho accantonato. Però insomma comunque il mio modo di lavorare è quello lì e quindi non c'è verso. Insomma, non posso fare altrimenti. Non mi viene, in altra maniera non mi viene. Non mi viene di getto. Ecco, anche se mi ricordo che una volta avevo partecipato a un bel festival. Non mi ricordo più, era in provincia di Roma, ma non mi ricordo più esattamente più il paese. dove c'erano i poeti in ottava rima, gli si dava la stura e loro andavano, e c'erano due poeti, io e Silvia Tessitore, che dovevamo fare, mentre i due poeti in ottava rima si sfidavano su un argomento, noi ad impronta, però scrivendo ovviamente, perché noi non avevamo quel tipo di attitudine, dovevamo fare anche noi un testo che poi subito dopo avremmo letto. Quindi avevamo un breve tempo di composizione. Ecco, insomma, ci era concesso questo. E com'è andata? Ma a parte che è talmente tanti anni fa che non mi ricordo, però direi bene, tutto sommato ce l'ha scancavata. E beh, dai, un po' di mestiere ce l'abbiamo anche noi. Cosa ne pensi degli slam? Allora, gli slam sono una forma che in questo momento ha un certo successo anche, per proporre i propri testi e intrattenere un pubblico che ti ascolta. Sono completamente in disaccordo con qualsivoglia polemica che quella non è poesia, oppure viceversa che quegli altri sono dei tromboni accademici che non vogliono che... L'ho fatta semplice, ma tanto più o meno le cose che sono in campo sono quelle. Semplicemente è un modo spettacolare di fare una lettura di poesia, che prevede questa finta competizione in realtà. Finta in realtà col fatto che ci sono i vari campionati, chi vince passa al campionato regionale, poi a quello nazionale e addirittura europeo e poi anche mondiale. Difatti il campione del mondo è italiano, adesso. Sì. Il poesia slam. Sì, mi sembra di sì. Sì, sì, no, lo confermo. E quindi è appunto, niente, è una forma. Io ho anche partecipato a questa sorta di lettura più volte. Anzi, addirittura una delle prime, forse ho partecipato a una delle prime che era stata organizzata dall'Ovoce all'inizio del 2000 al Festival di Roma Poesia. E poi ci partecipo, come dire, saltuariamente, nel senso che rispetto ad altri poeti che invece più massicciamente lavorano su quel tipo di operazione, lo faccio in maniera più saltuaria. Ho capito. E quali sono i tuoi progetti poetici? Beh, finire questa intervista, è un progetto politico di grande. Poi metterò in versi tutto. No, uno era quello di cui ti parlavo un po' prima, di che ti dicevo che comunque come argomenti mette dentro il mondo del lavoro a 360 gradi. quindi soprattutto la ricerca del lavoro, i morti sul lavoro e il lavoro e la sua, diciamo, debilitazione. Perché il lavoro debilita e non nobilita. Debilita l'uomo. Debilita, e sì, è di fatti. E niente, comunque sto lavorando su questo tipo di argomenti. Però, come ti dicevo, appunto, io butto dentro un sacco di roba e ci dovrebbe essere anche una sorta di... cioè, diciamo, intrecciato questo a delle situazioni personali, anche. Bene. Bene. Che mi sono un successo, anche per cui per me... Non che ti sei inventato, ecco. No, approfitto, perché ti dà del materiale talmente surreale, a volte è grottesco, che quasi non ci devi mettere neanche mano per renderlo... Per renderlo poetabile. Sì, esatto, di fatti, sì, sì. Bene. Bene, Paolo. Grazie di avere partecipato a questa tortura. Prego. Poetica. Poetica. Era l'ultima domanda, così hai finito. Sì, risponderò. Risponderò. Pagherò. Sì, sì. Va bene. E alla prossima occasione. Alla prossima. Ciao a tutti. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione. I'm con una prossimaetera. I'm con un podcast di Amadeus. I'm con un podcast di Amadeus. Grazie a tutti